Siamo Broti, Buccia, Bum, Buccia, Bum, Buccia, Bum, Buccia, Bum, Buccia, Broti, 14, siamo Broti, 1, 2, 1, 2, 3, 4, Siamo pronti? Siamo pronti? Allora ragazzi, scempi, scempi, onore e rispetto, è questa la qualità che c'è la valenza volontaria. Quindi, siamo pronti? Scendi, onore e rispetto, pronti? Pronti? Fatto tre. Pronti? Pronti? Un, due, tre. La, la, la. Tu sei avverso, tu sei avverso. Tu sei avverso, tu sei avverso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.